Interviene Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Firmato il decreto istitutivo della Zesse Ionica, ora questa grande opportunità per il territorio è realtà. Dopo un lungo percorso amministrativo inizia dunque la fase più entusiasmante. Sono davvero entusiasta, dichiara l'assessore, per il raggiungimento di questo obiettivo che perseguo sin dal mio insediamento. E ringrazio per il grande contributo fornito il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, con il quale abbiamo condotto in questo periodo una proficua e leale interlocuzione, sempre improntata alla massima collaborazione istituzionale, avendo come unico obiettivo il bene primario della collettività al di là degli schieramenti partitici. Ora che il percorso burocratico e amministrativo è definitivamente completato, si apre per la Zesse Ionica e a seguire anche per la Zesse Adriatica la fase più importante e più decisiva, quella cioè in cui le imprese del territorio dovranno saper cogliere la grande opportunità rappresentata dai notevoli benefici in termini fiscali e di semplificazione amministrativa che questo strumento comporterà, consentendo in tal modo di generare su tutta l'area ionica una significativa spinta verso lo sviluppo economico e la crescita occupazionale. Ma la Zesse Ionica rappresenta anche una grande occasione per attrarre sul nostro territorio investimenti esteri e per questo già nelle prossime settimane partirà un'intensa attività di marketing e di informazione utilizzando ogni canale in modo da far conoscere a tutti i soggetti potenzialmente interessati ad insediare la loro attività nell'area perimetrata della Zesse l'esistenza di questa opportunità. E conclude così Borracino, si tratta certamente di un nuovo inizio per il territorio ionico che potrà ora ragionare sul proprio sviluppo in una logica di sistema utilizzando tutte le leve messe a disposizione da questo strumento al fine di implementare la sua crescita economica e occupazionale.